Ciao amici del Club delle Ricette! Scopriamo insieme come preparare una golosissima crema pasticcera al pistacchio. Iniziamo mettendo in un pentolino il latte e l'estratto di semi di vaniglia. Mescoliamo per bene e poi mettiamo sul gas a fiamma dolce. In un altro pentolino aggiungiamo lo zucchero, i tuorli d'uovo e con una frusta montiamo leggermente il tutto. Grazie a tutti! Aggiungiamo la farina, la maizena e amalgamiamo per bene. Quando il latte sfiorerà il bollore, versiamolo a filo mescolando per bene con la frusta. Mettiamo il pentolino sul fuoco, sempre a fiamma dolce, e continuando a mescolare facciamo scaldare fino a quando la crema non si addenserà. Una volta addensata, togliete dal fuoco, aggiungete la crema al pistacchio e amalgamate per bene. Aggiungiamo la crema al pistacchio e amalgamate per bene. Aggiungiamo la crema al pistacchio e amalgamate per bene. Ecco, pronta la nostra golosissima crema pasticcera al pistacchio. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!